Ciao ragazzi, è venuto in questo nuovo video Scusate Dybala è nata all'Inter No, Bremer è nata all'Inter No Ah beh, però, caballo dell'Inter Eh no Quanto mi piace Quanto mi piace, adesso non potrete capire Quanto mi piace quando Devo evento su soffia a certi giocatori Dove l'Inter ci si era affiondata Dybala diceva che ad andare All'Inter, dalla Juventus E' andata alla Roma Bremer è fatta Bremer è fatta, all'Inter per 8 milioni In realtà la Juventus si è preso Premer Cabal all'Inter Sono questioni di giorni Ormai l'ufficialità E' ufficiale, bellissimo L'Inter prenderà Cabal Poi Cabal alla Juventus Per 10 milioni In barre più bonus Ragazzi, però, prima di partire con il video Mettete like, commentate, condividete Iscrivetevi Fate iscrivervi i vostri amici Continuate a sostenermi con le vostre iscrizioni Perché il mio canale sta crescendo sempre di più Guardate il video fino alla fine E attivate la campanella Per non perdervi nessun video Che io vengo qui a postare Allora Eccoci qua ragazzi E' una cosa che fa veramente ridere Ieri stavo ascoltando la radio Quando è uscito da lavoro E dico Ma ho sentito bene il nome? Cabal accordo totale Juve Verona Le cifre dell'intesa Inter sorpassata Giunto ne ha messo al segno Un altro colpo Il colombiano del Verona Che nel 2017 Postò una foto su Instagram In maglia bianconera Il club bianconera Ha chiuso un nuovo colpo Di mercato Per regalare il difensore colombiano Tiago Motta La Juventus Ha raggiunto l'accordo Con il Verona Per il giocatore classe 2001 Quindi molto giovane Non giovanissimo Ma giovane 12 milioni di bonus Compresi Infatti Queste le cifre dell'intesa Trovano dunque Conferma L'indiscrezione Di qualche ora Fa dell'equipe Accordo totale Sia tra i club Che la Juve E il giocatore Le visite mediche Del nuovo difensore bianconero Ci saranno già Nelle prossime ore Quindi questa mattina Ci saranno già Le visite mediche E poi Lui potrà firmare Con la Juventus Cabal Di giorni scorsi È stata accostata All'Inter Ma la Juve È riuscita Nelle ultime ore Di inserirsi Nella trattativa E a chiudere L'operazione L'operazione Che porterà Caballo Alla corte Di Diago Motta Potrebbe rientrare Anche una contropartita Il nome più caldo È quello di Marley A che Ma non è il solo La scelta Vara fatta Nelle prossime ore Così Motta Che cercava Un altro difensore Giuntoli E l'ha portato Il terzino Il terzino sinistro Ha giocato Nel Verona L'ultima stagione Con 22 presenze E ripeto Lui Nel 2017 Ha fatto una foto Su Instagram Ha postato una foto Tifoso della Juventus Si parla di Sette anni fa Quindi Non c'era neanche Lontanamente Il pensiero Di prendere Questo giocatore Anche perché Era ai più sconosciuti Io voglio dire Una cosa Quelle C'è un tifoso Interista Veramente che Non so come fa A avere tanti iscritti Che porta Odio Porta Solo odio Su Youtube Per me Odio calcistico Poi spero che non sia così Nella vita Da porti personali Sennò veramente C'è da preoccuparsi Che continua a fare Video su video Contro la Juventus Per Per certi processi Per certe manovre Dice Juventus Radiata Ecco Quest'anno Si E ora Finalmente La Juventus Inzere il D Prima cosa Il processo nuovo Che ci sarà Non è alla Juventus Perché la Juventus Ha chiuso tutto quanto Non è penale Ma è Verso Agnelli È Verso Agnelli Nedved Paratici E arriva bene La Juventus Non è minimamente Nominata Sono processi Verso Le persone Che non fanno più parte Della Juventus Come Zhang Non fa più parte Dell'Inter Otto Iron Non fa più parte Dell'Inter Che se vengono Vanno processi Per delle Per delle Falsi Fattorzioni Sarà toccata Soltanto La persona Non la Juventus Non la squadra La Juventus Ormai Ha pagato Quello che doveva pagare E si è chiuso tutto Lì si è chiuso È rivolto Soltanto Verso Le persone Quindi Quando tu parli Quando vuoi far video Perché Hai Perché stai Rosicando Perché sai che la tua squadra Non ti compie C'è un dore che vuole Sai che Marotta Ti sta prendendo in giro Perché non avete più soldi Non avete più soldi Non avete più soldi Vi siete fatti Sfruggire Cabal Poi un altro giocatore Che voleva Venire da voi Buongiorno Fermiamo Buongiorno Prima doveva vendere Giocatori Ah si E intanto Buongiorno Va al Napoli Quindi Quando tu parli O fai video Io ripeto sempre Fai video Verso la tua squadra Perché tu Hai fatto un video Dicendo Voi Juventini Parlate della vostra squadra Io parlo dell'Inter Allora tu Comunque parla Della tua squadra Perché fai Solo figure Barbine Fai figure Barbine Ora è fatta Cabala all'Inter Ottimo colpo Boom Stum E alla presa La Juventus Quindi Parla Parla delle cose Che ti competono E basta Perché Di processi Di Politica Di avvocati Di leggere Non ci capisci Non ci capisci Perché Se no Ogni video Che fai Dell'anno scorso Non ci hai capito mai niente Di quello che Di quello che si parlava Tu portavi soltanto Odio Sulle web Per Spalare Merda Sulla Juventus Tu Pensa La tua squadra Pensa Che io Pensa La mia squadra Questo video Parlo della mia Juventus Però giustamente L'Inter È coinvolta Perché È È un pollo Ma come Dal 1908 Ad oggi E quindi È giustamente La cito Se no A me Non interessa Proprio niente Dell'Inter Sono contento Che la Juventus S'ha soffiato Un colpo All'Inter Io speravo Che anche quest'anno Avesse messo L'effigie Di cabale Sul Duomo Proiettato Come messi Quella volta Messi all'Inter Ma dove Che siete Dei pagliacci E basta Siete soltanto Dei pagliacci Siete Dei pagliacci Tu non parlare Più Dell'Inter Della Juventus Io non parlerò Più dell'Inter Però Ragazzi Questo È un ottimo Acquisto Perché io sfido La maggior parte Delle persone A sapere Che Giuntoli Era su Cabal Perché si dice Che Già nei scorsi giorni Cabal Era entrato Nell'orbita Della Juventus Io personalmente Non ne ho mai sentito Parlare Però Sono contento Perché Non è male Come difensore E quindi Giuntoli Altro Ottimo Colpo In entrata E Non si può dire Niente Di questo Direttore sportivo Che ci Farà Penso Fare Delle grandi Vittorie Quest'anno O perlomeno Potremmo vedere Del buon calcio Ragazzi Fatevi sapere Qui sotto Voi Cosa ne pensate Di questo Acquisto Cosa ne pensate Di aver Shippato Un giocatore A quella scuola Lì Mettete like Commentate Condividete Il video Iscrivetevi Fate iscrivere Grazie Attivate la campanella Per non perdervi Ogni nuovo video Che io Metterò qui su youtube Trovate qui sotto Lo stico Super grazie Fino alla fine Forse Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao